ciao benvenuti in un nuovo video della soffitta di lala e po come potete sentire oggi po non c'è ci sono solo io però dopo lo contatteremo telefonicamente per bombardarlo di domande infatti oggi parleremo di alcuni giochi della ravensburger che si chiamano quiz e lode usciti negli anni 90 forse voi ve li ricordate ancora nei negozi perché sono stati fatti anche diciamo degli aggiornamenti di questo gioco che sono usciti dal 2004 al 2010 in particolare questo è una versione moderna questo invece risale agli anni 90 come tutti i giocattoli io lo volevo ardentemente questo gioco mi piaceva tantissimo sinceramente non so perché non so se era per sfidare me stessa nella conoscenza o per sottoporre i miei amici a dei quiz in tutti i modi mi ricordo che in un numero di topolino usciva un piccolo fascicoletto più piccolo di questo magari con massimo 5 6 pagine o terzo o quarto elementare comunque era un livello più piccolo di quello che c'è più basso di quello che avevo io ma per quanto l'ho usato l'ho quasi consumato però adesso non lo trovo più doveva invogliare a comprare la versione più grande la versione più grande come potete vedere si trovava all'interno di una custodia in plastica molto resistente ed era spesso vicino alle casse dei negozi di giocattoli qui credo che avesse un bollo per la chiusura e quindi per vedere che non era stato aperto all'interno di ogni confezione c'erano due grandi blocchi di domande e come sono fatti mi piacevano molto mi piace molto come sono fatti in quanto una carta plastificata e hanno in un angolo diciamo una sorta di fermo che permette alle carte di ruotare facilmente e quindi potete portare i blocchi anche con voi per questo uso avrei preferito che so un portachiavi magari così che potete potevate attaccarveli alla cartella dove volevate però anche così funzionavano molto bene tra un po' vi svelerò perché c'erano due blocchi all'interno però per il momento vi dico che c'erano varie difficoltà di quiz allora c'erano a partire dalla prima elementare fino alla terza media che cosa cambiava cambiava il numero di materie infatti in prima elementare c'erano solo 5 argomenti in seconda 7 argomenti dalla terza elementare fino alla prima media 10 argomenti e gli argomenti erano fumetti e cartoni animati scienze e tecnologia italiano inglese curiosità storia terra e cosmo sport natura e tempo libero enigmi e misteri matematica informatica come vi ho detto questa è la versione del 2004 quelli più vecchi avevano dei simboli più semplici monocolomatici e anche la dicitura delle materie poteva variare un pochino però in fin dei conti era questa un'altra diciamo differenza tra quelli delle varietà infatti oltre alla classe c'era anche scritto l'età consigliata era il numero di domande in quelli delle elementari le domande erano solo prima elementare 600 seconda elementare 800 e poi crescevano andavano da 1150 a 1250 questo era venduto come un gioco educativo infatti diciamo ponendo agli altri o diciamo ponendo a se stessi delle domande si poteva apprendere qualcosa anche se sono delle piccole curiosità però potevano spronare i bambini e i ragazzi allo studio e alla conoscenza di materie come ad esempio la matematica che a volte possono essere ostiche questo gioco si può giocare da soli o in due giocatori quando si gioca da soli si sceglie uno dei due blocchi vi faccio vedere le domande sono sia da un lato che dall'altro quindi ogni blocco contiene 60 domande vediamo che giocando da solo non si non c'è il rischio che vediate le risposte perché su una faccia c'è la domanda poi basta che la spostate qui trovate le risposte se invece quindi sfidandovi da solo da soli potete leggere le domande poi andare a controllare se la risposta è esatta e quindi attribuirvi un punto il rischio è che se voi comunque possedete questi questi blocchi e a lungo andare imparerete le domande a memoria quindi se giocate con un'altra persona è facile che che vincete se giocate in due ogni concorrente quindi si prende uno di questi blocchi e ci si sfida a suon di domande quindi se inizio io appunto pongo una domanda al mio avversario se lui sa rispondere gliene dovrò porre un'altra e così via finché non sbaglia quando sbaglia si cambia il turno il gioco dice che vince chi prima arriva 10 punti però se siete bravi potete anche aumentare questa soglia mi sono convinta a fare questa recensione quando ho trovato in un toy center vicino a casa mia quest'altro blocco di domande non sapevo che esistevano anche domande diciamo edizioni speciali sui cartoni della disney questo come potete vedere è un blocco singolo ed è molto sottile ed è dedicato al gobbo in notre dame infatti è del 1997 però girando la confezione ho potuto scoprire che ci sono anche quelli dedicati a aladin a il re leone e al libro della giungla su internet ho visto che non era diciamo questi non sono i primi blocchi monotematici che sono stati prodotti ma ci sono anche ad esempio quelli relativi allo sport in questo caso la modalità di gioco è un po' diversa infatti ci sono due tipi di domande e i quiz sul film quindi dovete essere molto bravi a ricordarvi tutte le parti del cartone in quanto vi si chiederà cosa succede dopo una determinata scena oppure i quiz tra bocchetto che sono più che altro diciamo dei quiz su visivi in cui dovete trovare le differenze particolari mancanti e così via questi due tipi di quiz sono divisi sono da una parte quelli sul film quindi ad esempio chi è avvolto in una coperta sarà quasimodo quindi quasimodo da bambino domanda cosa stanno osservando i gargoyle cosa stanno osservando la festa dei folli invece girando il blocco ci sono appunto questi quiz ad esempio trovo l'altra metà del cappello da giullare e quindi dovete trovare tra questi qual è credo sia questa e infatti qui ve la evidenzia oppure vediamo di che colore il fiore che manca questo fa rosa giallo arancione rosa giallo sarà ok quindi sono dei quiz che potete a cui potete rispondere anche non guardando il film però dovete necessariamente guardare questo blocco cioè far vedere al vostro avversario se lo state ponendo a qualcun altro queste immagini diciamo che non mi piace molto questa tipologia perché è molto differente rispetto a quella iniziale in quanto bisogna comunque guardare concretamente le schede e non ci si può ad esempio giocare a distanza se ad esempio si sta facendo un viaggio o non si è proprio vicino in teoria si potrebbe giocare anche per telefono se ognuno ha il suo blocco come vi faremo vedere tra un po' con po' però comunque l'ho preso per una questione affettiva perché quando ero piccola mi piaceva molto il gobi notredame e credo sia una bella cosa da tenere per i collezionisti adesso vi lascio la telefonata che ha avuto con po' e vi faccio vedere un po' il livello delle domande e come si gioca a questo gioco. Allora adesso abbiamo contattato voi per telefono e gli faremo qualche domanda. Sì 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 sono pronto 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 sì pronto abbiamo a disposizione delle domande da 11 a 12 anni quindi per le medie e le domande sono dall'uno all'ottantanove che cosa vuol dire gli anni dall'anno uno all'anno 89 sono 89 schede quale scheda vuoi come scuso 89 anni ancora le scuole medie ma la scheda dall'uno all'ottantanove 69 ok vai sono sono pronto facci lei allora ti faccio cactus la fotosintesi clorofiliana questo no chi ha costruito un parco a tema incentrato sui dinosauri questo è difficile Steven Spielberg no James Cameron John Hammond e chi è John Hammond è quello che ha fatto Jurassic Park vai vai i samurai vivevano in Cina o in Giappone in Groenlandia in Giappone in Giappone ma che domande sono poi ci sta curiosità il nefrologo cura le malattie dei polmoni vero o falso se sbagli questo dei nefri falso eh che cura i reni oh meno male ma io sono un gambione queste cose leggo da sinistra è un solvente da destra è una raccolta di vini cos'è come aspetta leggo letto da sinistra è un solvente leggo da sinistra è un solvente da destra è una raccolta di vini sono due parole una è un solvente e l'altro è una raccolta di vini allora come si chiama una raccolta di vini cantina no no collezione di solito quando vai in una parte dove stanno tanti libri che si chiama biblioteca quindi deve finire con teca enoteca ok e se la legge al contrario acetone ma sta cosa non la sapevo ma è fantastica fammene altre di questo tipo vero che uno odontometro misura i dentelli dei franco bollo oddio questo non lo so no un odontometro misurerei i denti normali odonti e noi invece misura i denti del franco bollo ma che perché mi sono dovrebbe misurare i denti del franco bollo dici perché si mancano i denti ho preso più piccoli il franco bollo è contraffatto no non vale infatti io quando facevo la mia collezione di franco bolli erano tutti sdentati per servetuloa firlandese vuol dire benvenuto no invece sì ma quale altra materia ti può interessare natura e tempo libero e natura e temporali qual è la lingua ufficiale della danimarca perché nel danese il danese il cane il danese questo è difficile qual è il capoluogo del molise campo basso questo è qua ti potrei fare scende tecnologie vai 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 sono carico quali sono i nomi dei due robot mandati su marte nel 2004 uno inizia con la s e un altro con la o orfeo salvalana spiriti opportuniti questo lo sai qual è la forza che si oppone al moto l'attrito o la retro la famosa retro l'attrito questo sono sbagli sto dicendo dall'atomo di elettroni la sua carica sarà positiva o meno male il numero uno elevato alla quinta equivale a cinque o a uno a uno meno male va bene va bene allora saluta tutti saluto tutti ritorno alla mia futile vita va bene arrivederci grazie è stato un piacere parlare con tutti voi vi amo vi amo vi amo ciao ciao ragazzi ciao spero che questo video vi sia piaciuto se vi è piaciuto mettete un mi piace iscrivetevi al canale potete seguirci anche sui social in particolare noi abbiamo instagram e facebook e anche il nostro blog naturalmente se volete leggere la recensione scritta vi lasciamo tutti i link e nell'info box grazie di aver guardato questo video alla prossima ciao